I Teramani si sono dati appuntamento in Piazzetta del Sole per quattro sere consecutive grazie all'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise che ha pensato bene di organizzare quattro incontri di divulgazione scientifica nel centro storico di Teramo, Piazzetta del Sole appunto, un luogo un po' trascurato e ancora troppo poco conosciuto. Uno spazio che l'IZS invece ha intenzione di riqualificare con il supporto dell'amministrazione comunale di Teramo. E questa riqualificazione passa attraverso la cultura, ecco perché è stato allestito proprio qui il Museo del Gatto che in queste quattro serate è rimasto aperto al pubblico fino a mezzanotte. I quattro appuntamenti in Piazzetta sono stati un'occasione di dialogo con i cittadini per presentare in maniera divulgativa alcune delle attività che l'Istituto svolge per il benessere e la sanità animale, la sicurezza alimentare e ambientale. Sono stati anche proiettati cortometraggi vincitori delle sette edizioni del premio speciale caporale per un filmato che racconti la relazione uomo-animale-natura indetto dagli ZS di Teramo nell'ambito del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo curato dall'Associazione Teramo Nostra. Era bello portare intanto all'esterno delle attività di ricerca e anche di studio che l'estituto zooprofilattico fa da anni nei vari settori della sicurezza alimentare ma anche della sanità animale, del benessere animale perché ci sono dei temi che sicuramente possono essere trattati con la semplicità che può interessare alla generalità delle persone. Poi ci sono temi un po' più particolari che sono di nicchie che riguardano un particolare settore scientifico ed allora era carino portare all'esterno l'Istituto perché vive nella città di Teramo da sempre ma sembra una cosa estranea la città e portarla in questa piazzetta che secondo me è una parte storica della città molto bella e che va riqualificata e riqualificarla su un tema culturale insieme al premio di Venanzo sicuramente è un buon modo per ripartire. Un successo dunque questa formula tra divulgazione scientifica, cultura e cinema curata dagli ZS di Teramo che ha avuto l'idea di far uscire fuori dai laboratori la ricerca e portarla in piazza affinché tutti ne potessero godere. Grazie